Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, di studio Roberto Di Giacomo. Infippi l'incidente tra lo svincolo per Vicarello e lo svincolo per Lavoria, direzione Firenze. Sempre su questa arteria, fino all'8 dicembre, tratto e chiuso per lavori al chilometro zero dell'SP224 di Marina di Pisa, nei pressi dello svincolo di via Quaglierina, Livorno, per Frana, al chilometro 79-865, direzione Mare. Statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte dell'Eventurina a causa di una frana. Sulla statale regionale 2 Cassia, senso unico alternato e rissincimento di careggiata per lavori all'altezza del chilometro 268 a Barberino Tavernelle. Moersi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comuni di Firenze. Grazie a tutti.